Ebbene sì, anche Square decide di investire 170 milioni di dollari in Bitcoin. Considerate però che è la seconda tranche, infatti ha acquistato l'equivalente di 3318 Bitcoins, che sono leggermente di meno rispetto a quelle che aveva acquistato ad ottobre 2020, che erano all'incirca 4709. Considerate che tutti i Bitcoin che acquisite l'azienda corrispondono all'incirca al 5% del patrimonio di tutta l'azienda. Come vi dicevo però io non sono contento di questa scelta qua, semplicemente perché non reputo Bitcoin 1. una riserva di valore e 2. un metodo di pagamento. Non lo reputo una riserva di valore semplicemente perché è correlato all'andamento del mercato azionario sostanzialmente e non è decorrelato ad esempio come l'oro, quindi a mio avviso non può essere una riserva di valore da utilizzare nei momenti in cui c'è magari inflazione o i mercati azionari scendono. E 2. non lo reputo un metodo di pagamento semplicemente perché è molto 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 volatile e quindi a mio avviso non può sostituire le monete fiat. Detto questo se ti piacciono i miei video brevi lascia un bel like, un commento ed iscriviti al canale.